Benvenuti alla Barden University! Ti interessa unirti al nostro gruppo a cappella? Quando vuoi, fratello! Ah, quindi non è un fratello? Cansiamo cover di pezzi famosi senza far uso degli strumenti, solo con quello che c'è c'è dalla bocca. Ah, ecco. Scusate, non so nemmeno cantare. Qual è il tuo nome? Ciccia Amy. Ti autodefinisci Ciccia Amy? Così le stronze ussute come voi non lo fanno alle mie spalle. Ma sei pazza? Tu sai cantare! Chiudi! Devi fare l'audizione per le bella. Certo che no! La canteresti per me? Per bacco i monelli a cappella sono divantati ancora più morelli. Siete un fenomeno. Da baraccone, vi odio, strozzatevi, girl power! Questa è una lista di tutte le canzoni del nostro repertorio. Qui non c'è niente di questo secolo. Non basta essere brave, dobbiamo distinguerci. Il nostro obiettivo è tornare alle finali. Come ci paghiamo il viaggio? Non possiamo certo fare il car wash in bikini? No, ubrio, sono strepitosa a fare il car wash in bikini. Dora in poi non perderemo più tempo con scuola e ragazzi e l'aerobica la farete da sole. Per quella roba io non sono portata. Cosa fai? Faccio corso orizzontale. Vi allenate per il botte risposta? Che diavolo è? Oh, Mickey, io so fai, io so fai, you blow my mind, hey Mickey! Facciamo un bel messaggio, ragazze. Quale fallosissima scaletta piena di estrogeni ci avete preparato per stasera? Ehi, ciccioremi! Mi hanno sparato! Ma stasera vi ridurremo in briciole a suon di note e quei petti moshivi si incaveranno. Sono una grande.